I ladri sono tornati in azione nell'officina di Freddy Pacini, il gommista di Monte San Savino, che lo scorso ottobre sparò contro al 29enne che si era introdotto all'interno del suo capannone e l'uccise. Un nuovo assalto dunque è avvenuto lo scorso 24 gennaio, a due mesi di distanza dall'incursione terminata in tragedia, una notizia che sino ad oggi non era ancora trapelata. Era stato lo stesso imprenditore a denunciare ai carabinieri di Monte San Savino che qualcuno quella notte aveva provato ad entrare nella sua azienda di via della Costituzione, senza però portarvi a nulla, ma lasciando comunque turbato il gommista. Freddy Pacini, attualmente indagato dalla procura di Arezzo per eccesso di legittima difesa, dopo la perizia balistica eseguita da Pari De Minervini, l'esperto incaricato dal PM Andrea Claudiani, il gommista però potrebbe andare verso il proscioglimento. L'accertamento infatti avvalorerebbe la ricostruzione data dall'imprenditore. Dunque spari esplosi dall'alto verso il basso, stessa traiettoria anche per il colpo mortale, quello che ha dissanguato il 29enne, il ladro fu infatti colpito nel momento in cui aveva le gambe in aria poiché era scivolato nell'entrare rompendo un vetro. Stando alla perizia dunque il gommista avrebbe esercitato legittima difesa anche applicando la vecchia normativa a maglie ben più strette di quella nuova. È stata infine già fissata la data dell'interrogatorio. Nelle prossime settimane il gommista di Monte San Savino, dopo mesi di silenzio, parlerà con il PM come richiesto dallo stesso Pacini.